Chiediamo di fare perché questo è un laboratorio, cioè non facciamo musica solo per i ragazzi della scuola medica, anche per quelli che vanno i superiori, quindi li accorgiamo, in modo che non stanno per la strada. Questi sono ragazzi che vanno gli studi superiori, però hanno ricominciato a fare musica alla scuola medica, quindi noi stiamo portando avanti un laboratorio, laboratorio che intenzione di fare anni e di a scarsa, perché il Paese se non si raccomanda non scoppa di niente.